Via all'esame di maturità ecco i primi diplomati pesaresi. Università e imprese stringono un nuovo patto di collaborazione. Dai pescatori alla tavola arriva lo street food al porto di Pesaro. Italservice Final Four in casa per sognare un altro scudetto. Italservice Final Four in casa per sognare un altro scudetto. I maturandi del nostro territorio, coloro che hanno sostenuto appunto oggi per primi la prova dell'esame di maturità. Alle 8 di questa mattina è infatti suonata la campanella per questi primi maturandi in assoluto di questa sessione dalla formula compressa in una sola giornata di esame orale. Noi di Rossini TV siamo stati al campus scolastico per catturare qualche impressione. È arrivato il 16 giugno, è arrivato il fatidico giorno dell'esame di Stato, dell'esame di maturità. Per il secondo anno rivisitato e per esigenze di pandemia soltanto una giornata di colloqui orali. Qui ci troviamo al campus scolastico di Pesaro davanti all'Iceo Marconi dove si stanno susseguendo diversi episodi. C'è chi esce dall'esame appena sostenuto e può finalmente concedersi alle vacanze. Ci sono i tanti familiari che aspettano con tutti i festeggiamenti di rito. Questa era la prima giornata. Ogni giorno, ogni commissione d'esame prevede 5 colloqui orali al massimo per commissione. Sono circa 3.000 gli studenti di Pesaro impegnati in questo esame di Stato. Ne abbiamo ascoltati alcuni qui al Marconi all'uscita dopo l'esame sostenuto. È stata tutta quella preoccupazione che l'accompagna era giustificata oppure è stato qualcosa di più semplice del previsto? Un po' mi ha aiutato, devo dire, perché mi ha aiutato ad affrontare l'esame in modo abbastanza fiducioso nella mia riuscita. I prof comunque mi hanno aiutato e ne è andato tutto bene, tutto liscio. Ecco, per noi che veniamo dalla formula d'esame classica con gli iscritti all'orali, spiegaci un po' meglio come è strutturato questa sessione d'esame. Allora, l'esame prevede soltanto una prova orale dove nella prima parte viene esposto l'elaborato preparato da ogni studente. C'è una seconda prova di italiano e la terza prova invece è strutturata dallo stesso studente facendo dei collegamenti con le altre materie. Ci si fanno tante aspettative prima dell'esame. È stato quello che ti aspettavi, più complicato o meno complicato? Tutte e due. Diciamo alcune domande inaspettate, però semplice. Ho dormito un'ora questa notte, però bene, bene, bene. Ci siamo tolti un bel peso dalle spalle? Sì, è un gran bel peso, anche quando ho saputo di essere il primo, insomma, il primo giorno è stato, diciamo, inizialmente ero spaventato, però alla fine è meglio così. Mi sono tolto il dente subito e penso sia la cosa migliore, dai. È stato più semplice del previsto e tante volte uno pensa che sia difficile, però alla fine si risolve tutto semplice. Però è stata comunque, penso, una prova giusta ed equilibrata con l'anno che abbiamo passato e sono stato contento di aver potuto dare una prova quasi normale dopo, insomma, tutto il tempo che si è perso con il lockdown e che non abbiamo potuto, diciamo, vivere l'ambiente della scuola come volevamo. Però siamo riusciti a fare questi tre mesi un esame quasi normale, quindi di quello sono molto felice. Adesso aspettiamo l'esito. È passato veloce, credevo peggio. È stato un po' più difficile, secondo me, rispetto agli altri anni, non tanto l'esame, ma l'anno, se per sé, perché c'è stato un po' di casino. Inizialmente eravamo tutti a casa, poi metà a casa, metà a scuola e alla fine tutti a scuola. Quindi c'è stato un po' andare i vieni. E' un po' scombussolata la preparazione, però si è fatto quel che è il massimo. E per molti di questi diplomati che avete appena visto, il prossimo pensiero sarà la scelta dell'università. Proprio oggi l'Ateneo Urbinati ha presentato nella sede della Camera di Commercio di Pesaro una nuova guida di collaborazione fra università e imprese. Uno strumento utile ad unire il mondo accademico a quello del lavoro. Come ci racconta in questa prossima intervista il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Carcagnini. Ci stiamo rivolgendo a chi viene dopo la formazione. Quindi cerchiamo di farci conoscere, far conoscere quali sono le nostre professionalità, i nostri settori dove abbiamo delle competenze avanzate. Proprio perché pensiamo che possiamo essere di aiuto a un mondo imprenditoriale che vive in un contesto competitivo, in forte cambiamento. Quindi l'idea della formazione è una formazione che dia ai giovani gli strumenti per poter cogliere questi cambiamenti, anticiparli per alcuni aspetti e quindi a contribuire le imprese a rimanere competitive. Non a caso la platea a cui vi siete rivolti oggi è quella delle associazioni di categoria. Sì, sì, certo. Ci abbiamo provato varie volte in passato, ci continueremo a farlo perché deve essere un processo continuo, deve essere un dialogo che non si può interrompere e incontrarsi una volta ogni 4-5 anni. Però sono i nostri referenti per quanto riguarda il processo di post-formazione e contiamo su una collaborazione che c'è stata anche con singole componenti di queste associazioni. Vorremmo che il confronto sia con tutto il sistema imprenditoriale e delle imprese del nostro territorio. Avete illustrato tante possibilità di collaborazione, su molte situazioni state anche investendo fattivamente in maniera consistente. Esattamente, abbiamo voluto dare un messaggio che noi siamo i primi a credere in questo tipo di collaborazione. Abbiamo, anzi, un fondo che è stato costituito dal professor Stocchi che era il rettore che mi ha preceduto nel quale abbiamo messo 250.000 euro per cofinanziare un certo numero di assegni di ricerca che è una forma più avanzata di collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Quindi sono giovani che già hanno fatto un processo che addirittura ha completato il dottorato. Quindi sono studenti per la maggior parte con il dottorato di ricerca. Quindi hanno completato il processo di formazione. Ed ora il consueto spazio dedicato ai dati da coronavirus nel nostro territorio resta contenuta al 2,2% la percentuale di contagi rispetto ai tamponi effettuati nella nostra regione. Nel dettaglio sono 2.797 i tamponi processati di cui 1.339 nel percorso nuove diagnosi. I casi positivi sono 29 di cui 6 nella provincia di Peserurbino. Scendono a 49 invece ricoverati nelle Marche, cioè 11 meno di ieri. 8 quelli che si trovano in terapia intensiva. Sono invece 2 i decessi di marchigiani contagiati da Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore. È stata molto partecipata la serata di ieri sera. Ieri sera infatti all'hotel Excelsior si è tenuto un appuntamento conviviale organizzato dal Rotary Club Pesero dedicato all'attività del cantiere navale Rossini. Un appuntamento confezionato per presentare questo luogo che ha cambiato il volto ma anche l'economia del porto di Pesero e che Rossini TV vi mostrerà attraverso uno speciale d'approfondimento dedicato che andrà in onda venerdì alle 21.30. Questa sera però vi diamo un'anticipazione attraverso le voci di alcuni dei protagonisti intervistati da Francesca Tricca. Ho avuto questa sera la fortuna di essere stato vicino al dottor Agostino Cesaroni che ha permesso di trovare questi ospiti così illustri che in qualche maniera ci hanno fatto sognare perché ci hanno raccontato il cantiere visto da dentro mentre noi siamo stati abituati a vederlo crescere un pochino dal di fuori con questa struttura un po' magica, un po' così sinuosa. Siamo soddisfatti di questo rientro un po' in comunità, questo rientro dopo il periodo così buio, così triste del lockdown, della pandemia. L'attività del Rotary Club Pesero è stata comunque sempre vispa, vivace durante tutto l'inverno. Abbiamo fatto molte attività per la città, adesso la prossima settimana ci sarà il cambio di presidenza e anche io mi riposerò un po' di più. I valori trainanti sono diversi, direi che possiamo citare valori di carattere etico come quello del rispetto dell'ambiente, il rispetto e anzi la promozione del personale e sicuramente ci teniamo molto che il nostro progetto sia calato nel territorio sia di Pesero che della regione Marche. Credo che il nostro progetto proprio per la sua vocazione a metà strada tra il turistico e il commerciale sia veramente calato perfettamente nella realtà della città e del porto. Il cantiere Rossini è per vocazione internazionale, noi quando promuoviamo la nostra attività promuoviamo in realtà la città di Pesero più ancora che il nostro business. Sicuramente questo offre anche grosse opportunità alle altre imprese del territorio in quanto abbiamo la possibilità di attrarre equipaggi, armatori e appaltatori che vengono praticamente da tutto il mondo e quindi di far conoscere la realtà locale anche in contesti nei quali altrimenti non sarebbe sicuramente conosciuta. Salgono a 24 i nuovi treni regionali che quest'estate viaggeranno nelle Marche. Oggi a Palazzo Raffaello di Ancona sono state presentate alcune delle novità che nello specifico della provincia di Pesero Urbino prevedono l'introduzione del cosiddetto Urbino Link in collaborazione con Adria Bus. Si tratta di un nuovo collegamento intermodale treno-bus con 58 collegamenti quotidiani per raggiungere la città di Urbino attraverso un unico biglietto di viaggio. Sabato 19 giugno alle ore 21 il concerto della Dino Gnassi Corporation taglierà il nastro in piazza Municipio al ricco calendario di eventi estivi promossi dal comune di Gabicce Mare previsti la musica dei concerti al tramonto la rassegna cinematografica all'aperto Cinema Sottomonte la rassegna culturale Libri Aperti. E dopo l'annullamento della regata Pesaro-Pola dello scorso aprile la Lega Navale di Pesaro ha organizzato per domenica 20 giugno la regata del Solstizio replicando la prima edizione dello scorso anno. In questi giorni stanno arrivando le iscrizioni alla Lega per un appuntamento che alle 11 di domenica vedrà le imbarcazioni chiamate a completare un percorso di gara che prevede due giri fino a fosse sei ore da completare alle spalle della barca Giuria. E l'estate pesarese si arricchisce di un nuovo luogo cittadino dedicato allo street food si tratta della banchina di Calata Caio Duilio dove entro la fine di giugno verrà inaugurato un nuovo spazio di ristorazione. A vincere il bando del comune di Pesaro è stata l'abilità culinaria in vasocottura di polpo di fulmine un nome che già conoscete perché noi di Rossini TV abbiamo realizzato proprio lo scorso anno un programma televisivo proprio dedicato alla vasocottura. Quindi complimenti a Cinzia Frulla. Vediamo il servizio. Da Montelabate sbarcare al porto di Pesaro per noi è stata una grandissima conquista essendo il primo anno quindi è veramente una novità è una cosa un po' difficile anche da gestire anche a livello logistico e sono convinta che ci riusciremo porteremo la nostra vasocottura anche a Pesaro. Come sarà strutturato il punto di street food? Sarà strutturato con un furgoncino quindi vero street food e all'interno potremmo soltanto fare dei vasetti che noi già costruiamo a polpo di fulmine a Montelabate e avremo anche l'occasione di fare delle fritture, dei giorni stabiliti. Saremo qui fino a settembre tutti i giorni dalle 4 in poi per aperitivi, cene e tutto quello che possiamo soddisfare. Organizzeremo degli eventi culturali, degli eventi straordinari, diversi da quelli che siete abituati a vedere a Pesaro. E siamo alla vigilia di quattro giorni intensi per lo sport pesarese. Da domani il pallanino pizza di Pesaro ospiterà le Final Four dello scudetto di calcio a 5. Una splendida vetrina per la nostra città, un'occasione per l'Ital Service di sognare il secondo titolo tricolore consecutivo. A due anni dal primo storico scudetto pesarese di calcio a 5, l'Ital Service ci riprova e lo fa nel suo terreno di caccia preferito, il pallanino pizza. L'impianto di Pesaro è stato infatti designato dalla divisione nazionale calcio a 5 come sede ufficiale delle Final Four di Futsal 2020-2021. Il 37esimo scudetto italiano si deciderà dunque nell'impianto di Campanara fra domani, giovedì 17 giugno, e lunedì 21 giugno. L'Ital Service se la vedrà di nuovo con la fel di Eboli in un remake della finale di Coppa Italia, vinta dai pesaresi a Rimini lo scorso aprile. Sul fronte opposto, Meta Catania e Camedosson regaleranno una finalista inedita. Saranno proprio tre vigiani e siciliani ad inaugurare domani alle 17.30 le Final Four nell'impianto pesarese. A seguire, alle 20.30, Pesaro scenderà in campo con Eboli. Il giorno seguente le semifinali verranno replicate alla stessa ora per una qualificazione che si giocherà sul punteggio combinato della doppia sfida. Anche la finale sarà doppia, gara 1 sabato 20 giugno alle 21 e la decisiva gara 2 lunedì 21 giugno alle 20.30. L'Ital Service vuole scrivere un'altra pagina della sua storia sempre più scintillante in un evento che in ogni caso segnerà una piccola grande svolta per lo sport pesarese, perché sarà il primo appuntamento sportivo nazionale disputato a Pesaro alla presenza del pubblico. Secondo le normative anti-Covid vigenti, saranno ammessi al Palanino Pizza 500 spettatori. E continuiamo a parlare di sport perché continua a ritmo serrato la campagna di rafforzamento della Megabox Vallefoglia, che aggiunge alla propria formazione l'ingaggio di un libero di qualità ed esperienza come Giada Cecchetto, milanese di 30 anni con esperienze in serie A1. E questa era appunto l'ultima notizia, andiamo subito a vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV, perché questa sera ritorna il tanto atteso programma, una nuova esclusiva puntata di Quala Zampa, così come tutti i mercoledì, un programma, un format dedicato ai nostri amici animali, questa sera alle ore 21.15 e poi in replica domani alle 18.45. E poi vi ricordiamo anche di scaricare l'applicazione di Rossini TV vicino a te sempre di più, appunto perché tramite l'applicazione gratuita potete vedere il telegiornale, la rassegna stampa, i nostri programmi, i nostri video, eccetera, anche quando siete fuori casa, semplicemente accendendo il vostro telefonino. Allora grazie come sempre per averci seguito anche questa sera, adesso per voi c'è il meteo, ma l'informazione ritorna domani alle 7.20 con la nostra rassegna stampa.